La partita più bella e più intensa degli ultimi anni lascia tanto ramarico in bocca ad un noto che per due volte in vantaggio si è visto raggiungere allo scadere da un Città di Messina bravissimo a crederci fino alla fine. Città di Messina che al sedicesimo è già in vantaggio con questo gol di Tiscione che sfrutta al massimo un passaggio dalle retrovieti d'Ombrofoschi e porta in vantaggio i suoi tra l'incredulità del pubblico netino. Il noto punto nell'orgoglio comincia a giocare con un quarto d'ora di ritardo, si riversa nella metà campo della formazione per la oritana e cerca in tutti i modi di riequilibrare il risultato. E ci riesce nel giro di quattro minuti quando al sedicesimo trova il pareggio con Trimarco bravo ad attaccare bene lo spazio sul primo palo e a mandare alle spalle del portiere messinese per il momentaneo 1-1. Bello il gesto atletico del centravanti Granada che non segnava dalla partita contro la Nissa. 1-1 il noto potrebbe rifiatare ed invece trova la giocata giusta per portarsi in vantaggio. Pignatta supera così il portiere per l'oritano ma la palla resta lì, con qualche difficoltà la difesa messinese spazza. Daniele Conti conquista il pallone ed entra in aria, viene atterrato dal numero 4, l'arbitro non ha dubbi e a pochi passi assegna la massima punizione. Non c'è dubbio su questo calcio di rigore, il numero 4 strattona Conti dal dischetto Nigro fa il 2-1 e porta in vantaggio il noto. Passato in vantaggio il noto cerca di tenere testa alla formazione peloritana che in tutti i modi prova a riequilibrare nuovamente la contesa. Al 28esimo c'è un'azione dubbia in aria del noto perché Pascolicchio ferma così, Tiscione, l'arbitro ferma il gioco, non ha segno il rigore ma sventola un cartellino giallo in faccia all'attaccante del Città di Messina. Città di Messina che al 37esimo ci prova con Dombrovoschi che ha tu per tu con Vezzani, pensa al cross ma Saraniti non è puntuale all'appuntamento con il gol. Il noto dal canto suo ci prova, vorrebbe chiudere la contesa e accetta, si presenta dalle parti in area avversaria ma conclude male. Il pareggio, Beffa, è nell'area. Al 45esimo azione in verticale, Saraniti serve Citro il cui sinistro non lascia scamp a Vezzani e porta in parità la contesa. Un bel gol del numero 11 della formazione peloritana per chiudere il primo tempo. Primo tempo che si chiude con un'altra azione pericolosa del Città di Messina, la rovesciata di Saraniti fa la barba al palo della porta difesa da Vezzani. Con le immagini montate da Salvo Lentini passiamo dunque al secondo tempo. Un secondo tempo che si apre subito con il gol del noto. Trimarco salta un diretto avversario e viene steso. Dalla sua mattonella Daniele Conti indovina la traiettoria giusta e manda in estasi il pubblico lentino che ha potuto ammirare questo gesto balistico del numero 8 arrivato dal Marsala. Corsa sotto gli ultra, bacio alla maglia e Noto che ritorna a festeggiare. Ma la spinta del Città di Messina è continua, un Città di Messina che prova in tutti i modi a ritornare per la seconda volta in partita. Le prova tutte Mr. Rando ma il Noto riesce a fare buona guardia anche sfiorando più volte il gol del 4-2. Un po' di imprecisione, un po' di stanchezza, un crollo psicologico fanno sì che il Noto non riesca a trovare la giocata che chiuda di fatto la partita. Negli ultimi minuti ci prova Ticcione e beccare D'Angelo che manca l'appuntamento con la deviazione giusto. Poi la volta di Pascolicchio per il Noto che sfiora la traversa da lontano. Il Noto sembra tenere bene, Vezzani esce in sicurezza ma la beffa arriva proprio all'ultimo minuto di recupero. Un lancio dalle retrovie, un rimpallo favorisce la formazione pleuritana. Saraniti di sinistro appoggia alle spalle di Vezzani mandando in festa la propria panchina e gelando di fatto il palatucci. Il Noto esce con due punti in meno ma due sostituzioni in più.